Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di progetto. Io sono Alberto e sono davvero felice di portarvi questo nuovo video perché sarà il primo un'introduzione a questa nuova serie che porteremo sul canale, in cui andremo a trattare un argomento in cui non so quanti di voi abbiano mai sentito parlare, ossia andiamo a parlare di FPGA, o Field Gate Programmable Array. Le FPGA vengono utilizzate principalmente per lo sviluppo di prototipi rapidi, essendo loro facili da programmare e molto veloci. Ma cosa rende un FPGA così versatile, così comoda da utilizzare? Quali caratteristiche ha una FPGA? Queste board mettono a disposizione una serie di blocchi logici, detti CLB, e una serie di blocchi di input-output. Nei blocchi di input-output molto semplicemente si potrà andare a scrivere o leggere un segnale. Mentre i blocchi logici sono programmabili tramite dei linguaggi di programmazione, quindi la definizione di programmi, che possono essere caricati sulla board e eventualmente anche memorizzati in una EPROM. Così una volta che viene tolta l'alimentazione dalla scheda, il programma rimarrà in memoria e una volta rialimentato, il programma tornerà in esecuzione. Quindi nella nostra serie di video andremo a vedere come programmare questi CLB, come realizzare questi programmi e andremo a utilizzare dei blocchi di input-output, ad esempio per accendere un LED, utilizzare un bottone, fino ad arrivare ad applicazioni più complicate e più articolate. Sul mercato sono presenti vari modelli di FPGA. Il prezzo di mercato è molto variabile in base a quello che si vuole fare con un FPGA. Si può partire da una board da 20-40€, come quella che vi mostrerò sul canale, come quella che abbiamo noi, fino però ad arrivare a board FPGA che costano anche 1000-2000 o più euro, quindi per applicazioni più complicate e più complesse. La board che ho a disposizione è una board leggermente datata, ma non dovrebbe cambiare molto. Mette a disposizione 143 pin di input-output, più un 144 pin che è collegato a un bottone, quindi avrà segnale logico 1 quando il bottone non è premuto, segnale logico 0 quando verrà premuto il pulsante, oltre a dei LED che mostrano che la board è alimentata, eccetera. Per caricare il programma sulla FPGA sarà necessario un USB blaster che permette tramite questo connettore di poter collegare con micro USB all'USB del nostro computer la nostra board per poter caricare il nostro programma. Ora vi mostro le dimensioni di questa board, ma sappiate che altri modelli di FPGA le dimensioni aumentano perché ad esempio aggiungono più bottoni sulla board, possono aggiungere dei display a 7 segmenti, oppure uscite video, uscite audio, eccetera. Bene ragazzi, direi che il video di oggi può finire qui. Io vi invito a seguirci sui nostri social per rimanere sempre aggiornati. Spero che l'argomento e il video vi sia piaciuto, vi abbia interessato e incuriosito, quindi vi invito a iscrivervi al canale se non l'aveste ancora già fatto, per appunto rimanere aggiornati e vedere i prossimi video sulle FPGA, in cui andremo a fare i primi esempi di piccoli circuiti introduttivi. Se avete delle domande o degli argomenti specifici che volete che noi copriamo in dei prossimi video, vi invito a scrivere qui sotto nei commenti. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!